Antonio Cammarota, aumentano i contagi ma aumentano i disagi, si guarda tanto all'aspetto economico perché quello che pesa tantissimo al di là dell'emergenza sanitaria, lei aveva fatto una richiesta alla sospensione della Tari per le categorie commerciali per dare una mano per quel che si può. Avevo chiesto il rinvio della Tari, ci è stato detto che non era possibile, abbiamo detto in Consiglio Comunale che invece un sindaco, quello di Baronissi, ha rinviato la Tari all'anno prossimo, ci è stato detto che si è preferito il credito d'imposta, cioè una compensazione dell'ultima rata per un parrucchiere, per essere chiari, del 25% con il meccanismo del credito, praticamente nulla. La Tari andava rinviata perché chi non ha coscienza e consapevolezza delle necessità del popolo non lo può rappresentare. Oggi si ha coscienza che i contagi aumentano, in tanti pensano c'è chi lo spera, chi lo chiede, chi non lo vuole, un lockdown, sicuramente se ciò dovesse avvenire creerà ancora ulteriori richieste da parte delle categorie economiche, ma dalle famiglie salernitane. Senza moneta non si mangia e questo fa una differenza, e oggi va detto con chiarezza, tra chi è dipendente pubblico e chi no. Bisogna avere rispetto di chi il pane lo guadagna e dà il lavoro. Un'emergenza economica, un'emergenza sanitaria, le strutture del Salernitano sono quasi piene. Abbiamo proposto di mettere su strada le strutture mobili dell'Humanitas, della Croce Bianca, della Croce Rossa, di tutti coloro i quali possono garantire punti su strada drive-in per i vaccini anti-influenzali e per i tamponi anti-Covid. Cosa che invece diventa complicatissima, non perché non ci sono i tamponi o non ci sono i vaccini, ma perché bisogna aspettare 10, 15, 20, 30 giorni, il che rende assolutamente inutile l'accertamento sanitario. Un accertamento di ciò che sta accadendo in questo momento sul territorio, c'è un dato da rilevare, le strutture Covid, il Daprocida di Salerno ma anche altre strutture del territorio, stanno già accogliendo pazienti napoletani perché le strutture napoletane sono già out? Qui dobbiamo fare squadra perché ci troviamo tutti sulla stessa barca, lo ha detto Papa Francesco, e qui bisogna fare veramente un passo indietro con i toni e con le proteste e capire che il momento è veramente difficile, ma proprio per questo dove si possono prendere misure importanti a livello economico e di aiuto vanno presse, senza indugio. Oltre a chiedere misure serve un grande atto di responsabilità da parte di tutti? Assolutamente sì. La consapevolezza che la pandemia è come un terremoto che non si ferma e quindi, ripeto, bisogna agire, noi lo stiamo facendo oggi in Consiglio Comunale, cercando di dare il nostro contributo con le proposte costruttive. Grazie. 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 Grazie.